Io voglio dire alcune delle osservazioni che ci sono, diciamo, alla fine è meglio che lo dico subito al caldo. Sul sinodo, personalmente, la cosa peggiore è farlo per farlo, è la cosa più stupida che possiamo fare, penso io, cioè il cammino sinodale, scusate, cioè dobbiamo cercare di fare quello che ci serve e credo che questo è lo sforzo poi appunto della CEI e sarà sicuramente la discussione anche dei rischi, perché anche credo che quello che dico io grossomodo è un po' la considerazione di tutti quanti vescovi, insomma, qualcuno fa il suo, avete visto qualche diocesi, aveva già in cantiere il suo o ha iniziato il suo parallelamente, no? Sarà compito nostro effettivamente di mettere assieme la riflessione davvero importante sugli adulti e questo cammino sinodale che comincerà. Appunto, la preoccupazione, se farlo può fare, esattamente il contrario di quello che voleva il Papa, penso io, il Papa vuole fare qualcosa che ci coinvolga a dare le risposte. La seconda considerazione di un signor, avete notato un passaggio di un valentino su Monsignor Brambilla, la crisi italiana non comincia alla Firenze, è chiaro che c'è tutta una storia, che abbiamo Monsignor Pecchi, una storia di decennio. Allora, il Monsignor Brambilla esprime una sensibilità che, anche questa che è chiaramente importante, in cui dire, collochiamo Firenze all'interno della storia del TAP e della Chiesa italiana. Poi indubbiamente il discorso di Firenze è un discorso che ha dato una spinta sulla quale il Papa dice, oh, dobbiamo continuare a terza considerazione, il signor non è l'arba fenice, anche per quello che stiamo facendo, sostanzialmente, perché altrimenti sembra, tanto è vero che, tanto più perché la scelta della Chiesa italiana è stata quella dei Vescovi di non mettere in piedi, come tutto rispetto per i giuristi, una macchina sinodale, le cose che ci sono, noi dobbiamo scegliere le clip, adesso spediamo un po' anche se, anche questo, se possiamo riuscire a fare anche un po' di osmoso, cioè trovare anche delle persone che poi effettivamente la volto in avanti, che poi colleghi con tutte quante le altre, con quella della Chiesa tutta, no? Ma di non fare il signor del Vesco, diciamo così, credo che, grosso modo, se c'è una cosa chiarissima nell'Assemblea del Vescovi era proprio, noi non vogliamo quella roba lì, non ci interessa, per poi passare il tempo a dire che la Chiesa non è democrazia, eccetera, la Chiesa non è democrazia, è molto più una democrazia, penso io, la comunione è molto più impegnativa della democrazia italiana, sono gli ultimi 5 stelle, veramente facciamo pena, penso io, arriveremo buoni ultimi, ma abbiamo tanto di più, ecco, e poi sul, di farlo nella maniera più, possibilmente vicina alle difficoltà reali, per esempio, io penso, una dimensione sulle zone, va fatta, nella Chiesa italiana non abbiamo mai discusso che cos'è la parrocchia o le zone che, tenendo presente che alcune sono più di 40 anni, che ci sono, anche a livello della Chiesa dell'Emilia Romagna, effettivamente ci siamo detti, ma sentite, è possibile che, infatti l'unica volta che sei venuto tu, sarà stato ormai un anno fa qui, tutti abbiamo scoperto quello che facevano gli altri, tu sai, che ne so, che a Piacenza si fa in un modo, eccetera, chiaramente poi, non vogliamo uniformare tutto, ma la comunione non è uniformità, perlomeno anche suggerire, capire, eccetera, questo, va bene, questo per il filo, l'Udall invece non entro nel merito delle varie suggestioni, gli ambiti sono, in effetti, gli ambiti hanno funzionato alcuni, alcuni meno, alcuni per niente, alcuni hanno funzionato come le zone, ma anche così cerchiamo di fare funzionare il più possibile, più sono mascolari e più superiamo il campanilismo e arricchiamo il campanile, alcuni hanno funzionato, diciamo così, per problemi operativi, ci mettiamo d'accordo, quello che serve, eccetera, in effetti il rapporto che mi sembra che è cresciuto e mi auguro che cresca sempre di più, tra gli uffici e gli ambiti, in questo che è lì sì che si gioca la sinodalità, perché gli uffici, lo dicevano tutti quanti prima, danno le suggestioni, in genere anche raccolte ovviamente dall'esperienza, e gli ambiti non sono soltanto recettivi, ma che ne so, per esempio faccio un esempio dei funerali, che è un problema per me, grosso, anche una volta dobbiamo parlare anche noi, alcuni di noi dicono non faccio più le messe, non c'era proprio una messa, personalmente penso che sia una cosa davvero di cui discutere, eccetera, e ci vuol coinvolgere anche nell'esperienza, nel racconto, nel confronto e anche nelle scelte, che ci sia sempre qualcuno che canti nei funerali, penso che sarebbe una cosa bellissima, abbiamo parlato, penso ormai, per fare degli esempi, molte cose sono aperte e quindi gli ambiti avrebbero un po' di formazione, quello che gli uffici hanno preparato, delle indicazioni e allo stesso tempo, diciamo così, dalla discussione ci si affina, si crea, si aggiunge e via dicendo. Ecco, questo era il contrapunto che volevo dire sugli ambiti e sugli adulti, si tratterà di, una volta che abbiamo definito, il calendario viene capito, sostanzialmente, consiglio permanente alla fine settembre, c'è il novembre, a quel punto si definisce tutto e si comincia, il dubbio di Don Giovanni è legittimo, cioè si comincia, già praticamente sei arrivato alla quaresima, insomma, la macchina, però io credo che se noi riusciamo a far coincidere alcune delle nostre, della preoccupazione sugli adulti, con quelle che sono l'ascolto che ci viene proposto, credo che sarà grosso, che potremo fare, almeno qualche pezzo del che almeno lo potremo fare.